E' stato presentato al municipio dell'Alghè la presentazione dell'Alghè.cat, lo primo giunale online a lingua algaresa. Lo progetto è nato dell'asparenza della redazione dell'Alghè.it, in collaborazione all'opera culturale. Sono intervenuti il sindic Marco Tedde, l'assessore regionale della cultura a Mongio, che ha confermato l'ampegno della città e della regione alla diffusione della lingua spallana in Saldegna. Accapato il direttore del giunale, Pasquale Chessa, che ha ringraziato da parte tutta la redazione, rannuovando l'entusiasmo e l'ultrabalpia che ci non progetta. Grazie